musica 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 benvenuti alla parte 2 ragazzi ehm ghita di allora adesso aspetta ti faccio un bambino no la tracolla devi tenerla più così più così allora stai fermo nuovo prano allora ti spiego come fa ogni nota che arriva devi muovere un suo giù questo perchè? a caso ogni nota la devi muovere un suo giù e devi anche schiacciare questi? no quelli no vabbè è uguale ma io scuso 1 2 3 infatti tu in modalità facile usi solo questi 3 in modalità medio tutti e questi 4 ah ok fai meglio perchè l'ho fatto anche meglio allora adesso c'hai un elenco di robe e ti scegli quella che vuoi che hai mai questa Dio non sono infinite questa cos'è? let me mi mi con questa chissà se è bella chitarra fai sempre verde schiacci il verde fai il medio Veloce da normale, una volta, ragazzi mi tirati in azione, si si si, cioè io mi sposto da questa parte, dai, grande, ha già cannato tutte le capelli, bravo, sta beccando, dai, muoviti, devi fare, oh, su e tu ogni volta, anche su quel metodo, oh, adesso i tuoi tempoli devi schiacciare, ragazzi, guardate che avevo meno 50 di spiegherenza, dai, aspetta, qual è il tasto, sono in ordine, quello che è, quello che è in corso, tu stai schiacciando tutta la tastiera, vai cagare, oh, ho fatto il mercenzo, stai zitto, dai, mi tiene un crampo al punto, aspetta, adesso mi concentro, questo lo devi tenere sotto la dita, Sto iniziando a prendere feeling con la, con il controller a forma di chitarra, questo lo devi usare con due dita, l'indice del pollice, poi lo devi sia su, una volta su, una volta giù, una volta su, una volta giù, perché? Perché è più comodo, è più veloce far così, invece di aspettare che torna fu, non mi dico, già faccio fatica, sono così, siamo a metà della canzone, è 26,7% delle note, mi aspetta che mi sei impappinato i tasti, non devi schiacciare di tutto, te la cammi se, mi ma, non riesco a gestirli, I figli, oh, oh, non sonoaugmente C'è uno pochi, ciao radio, ciao, ho voluto fare questo scempio, ma tu puoi fare questo scempio, ma tu vuoi? Se siete amanti di Jeffrey pro guardate queste lembre, no, guardate queste lembre, no, guardatele in disfonte,根utto ucciderlo, no, guardate queste lembre, dai, stai schiacciando quello vecchie, Crociando, eh, togli, calmo, oh, oh, no, devi farlo, lasciarlo andare, e hai chiavo anche perso, il break down stai fermo stai fermo quando fai il vibrato devi far così eh ma non riesco a farmi andare su giù quello blu è il mignolo che fa un 10% e stiamo quasi per finire la camisola mi sa che vincere a manuele ma per ora sono tante ipotesi beh forse magari ne facciamo un altro gameplay dove gioco macchi una canzone che non conosco no 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 perchè io avevo già fatto solo quella quindi non capisco no ma non mi interessa è già uno proprio scempie così non c'è bisogno di scempiare di più e poi è 9 anni che non c'era proprio tienila dritta non è così sai che ti fai svuotare dopo la spacco in testa come fanno vedere i rockstar se me la spacco in testa te la faccio pagare con gli interesse fai tagliare oh l'ho presa sai che c'è una modalità dove si sbaglia un po' di note e ti mandano a casa questa ti mandano a casa no questa no ecco perchè comunque complimenti per l'ottima canzone che hai scelto oh è sexy sta canzone si si è uguale si si è uguale si si è uguale ma che fa così si sente un lamento in mananza dov'è? ma quando è che finisce sta merda? oh è finita adesso c'è il finale ecco è cannato le note finale no devi schiacciare ah ecco io mettiamo così ehi spacca si ecco hai beccato il 15% delle note totali scum balistico si ma questa cosa fa raggi e laser se fai tanti punteggi si no comunque ci sei andato vicino cosa? se fai un po' di note di fila puoi fare così con la chitarra c'è tipo un giroscopio all'interno che ti capisce che te la stai alzando e fai le note più belle che vengono di più advanced advanced aspetta vabbè ragazzi quindi per oggi abbiamo finito non hai tenuto il controller in mano sei una merda no è qua sul letto quindi bella tutti i ragazzi ci vediamo qui ci vediamo in un prossimo video con i nostri Emanuele Locati e ciao a tutti i ragazzi e saluto anche a tutti ciao ciao saluto tutti i ragazzi benvenuti in questo mondo buon salve tutti benvenuti diciamo di sì stai a loro di più no 11 bene passate a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ma vabbè la mia cosa abbiamo già iniziato no si tu dici tu sai di cosa adesso e la parte 1 finisce qui ragazzi ok venuta la parte 2 così facciamo no 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 benvenuti tanto chi se ne frena non si fa come altri benvenuti alla parte 2 ragazzi quindi